Avevano clonato le carte di credito dei clienti del loro hotel di Cattolica nel corso del 2021 e furono scoperti dalla Guardia di Finanza. Lo scorso dicembre tre persone, genitori e figlio di origine albanese, erano infatti risultati indagati dalle fiamme gialle riminesi che avevano sequestrato oltre 145.000 euro dai loro conti correnti. Indagini che in questi giorni sono proseguite col sequestro di otto immobili intestati ad uno dei tre indagati del valore complessivo di oltre un milione di euro. Sequestri finalizzati alla confisca di appartamenti e garage che si trovano anche nel Pesarese, oltre che a Rimini e Ravenna. A questi si aggiunge un locale ad uso non abitativo situato a Forlì. La vicenda è emersa in seguito alle decine di turisti da ogni parte d'Italia che avevano soggiornato all'hotel La Fenice, albergo cattolichino a due stelle gestito dalla famiglia albanese. Clienti che successivamente si erano ritrovati strani a debiti sulle loro carte di credito per pagamenti mai effettuati. Le indagini hanno appurato che i tre indagati avevano approfittato dei pagamenti dei clienti per copiare i dati delle carte utilizzandole per 150 transazioni non autorizzate. Già un anno fa, Guardia di Finanza e Tribunale di Rimini costruirono l'ipotesi di reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Undici mesi dopo, gli specialisti del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria non si sono fermati e hanno eseguito mirati accertamenti patrimoniali sul nucleo familiare, riuscendo a dimostrare la sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni 2017-2021 e il patrimonio effettivamente accumulato, costituito anche dagli immobili ora sequestrati.